La GMG è stata un'occasione per dare una svolta alla mia vita, mi ha aperto le prezioni per cercarmi della mia solita rotina quotidiana, un'esperienza divertente e formativa di stesso modo che mi ha fatto finalmente capire chi sono. Per me la GMG è un'esperienza unica. La GMG è stata sorprendente perché ho visto il risultato, l'entusiasmo e il gioia nel stare insieme. La GMG è stata un'esperienza unica, profonda e indimenticabile. Quanto a questa GMG ho provato delle emozioni veramente descrivibili, mai provate, che mi hanno dato la carica per tornare nella vita di tutti i giorni, cercando non di lasciarmi scorrere il tempo, ma comunque di vivere con la speranza di lasciare un'impronta su questa umanità. La GMG è stata per me un calderone di fortissime emozioni, è stata fonte anche di domande, ma soprattutto è stato un percorso in me stessa molto particolare e che non ha ancora fine. Per me la GMG significa apertura mentale, ma anche del cuore. Per me la GMG è stata determinazione e forza di volontà. Mi ha lasciato tante domande, tante provocazioni che mi spronano ad essere sempre in cammino. La GMG per me è sorrisi, ma anche occhi lucidi. La GMG è vitalità. Per me la GMG, essendo stata la prima volta, è stata un'esperienza indimenticabile, di emozioni contrastanti, che hanno dato alla mia vita una forza e una spinta ancora maggiore per vivere la vita. Questa GMG mi ha rinnovato la fede e mi ha dato nuova energia e nuova voglia di fare e di mettermi in gioco. La GMG per me è stata un'iniezione di energia, fiducia e speranza. Per me la GMG è stata qualcosa di grande, grande in quanto le parole del Papa rivolte a noi giovani. Per me la GMG è stata una strada, strada come percorso, con nuove amicizie, strada che mi ha aiutato a conoscere meglio me stesso, a vivere come chiesa giovane, anche però la strada che mi ha consumato le suole delle scarpe. Allora, la GMG, oltre ad essere stata un'avventura, è stata anche una grande esperienza di condivisione. Per me GMG è vita. Questa profonda esperienza ha mostrato in me sicurezza per continuare il mio cammino con Tenat. GMG mi ha lasciato tanti nuovi amici e la cosa che ricordo con più piacere sono i sorrisi di tutti. È stata un'esperienza indimenticabile che mi ha permesso di crescere e diventare una persona nuova e migliore. Per me la GMG è stata un'avventura che mi ha fatto aprire gli occhi sul mondo. Porterò con me l'immagine di un mondo unito, un mondo di fratelli in cui la diversità di lingua, di cultura, di bandiere, di colori non è un muro che ci divide, ma una ricchezza da scoprire. Da questa GMG porterò sempre nel mio cuore la gioia e l'entusiasmo di essere cristiani nel mondo. Mi ha insegnato cosa significa condividere la stessa fede con altre persone. Per me la GMG è un'esperienza unica. Non si può spiegare, si può soltanto viverla. Questa è la GMG secondo il pulma 1C. Alla fine eravamo stanchi, ma molto felici. E il nostro cammino non finisce qui.